Bene amici, finalmente la cantinetta. Come vi avevo detto, non la farò più tutti i mesi ma ogni tanto perché così si vedono veramente più le differenze e a questo giro, visto che era un po' che non la facevo, faremo anche dei ragionamenti e soprattutto i ragionamenti sui prezzi se ha senso comprare le ultime uscite o magari i telefoni dell'anno scorso. Partiamo da iPhone, con il successo è arrivata la 15.4.1, dopo lo sblocco con la mascherina è arrivato con la 15.4 c'è stato un drain batteria e quindi è uscita questa patch, ma parliamo di prezzi perché il 13 Pro 128 è arrivato a 1149 euro il Pro Max 1239 euro, sono scesi poco, hanno sempre tanto senso se soprattutto li usate per fare foto ma soprattutto video il 13, l'iPhone da comprare oggi? Ve lo dico subito, iPhone 12 liscio perché con i suoi 699 euro in versione 128 secondo me è il telefono più a fuoco di Apple, se avete ovviamente esigenze generaliste Samsung Galaxy S22 Ultra, patch di maggio, il miglior Samsung uscito quest'anno ve lo dico subito, senza se e senza mai, è arrivato al 12 256 a 1150 euro ha la penna integrata, un Note sotto mentite spoglie in generale meglio i telefoni dello scorso anno per qualità prezzo, per esempio l'S21 adesso costa 600 euro l'S20 FE che è il mio Best Buy tra l'altro è anche qua sotto 399 euro in versione 5G Z Fold 3, eccolo qua sono arrivate anche qua le patch di maggio gran calo di prezzo perché è arrivato a costare 1400 euro e a questo prezzo può essere una buona alternativa per chi vuole un telefono che comunque è un display molto grande ma diventa anche abbastanza compatto un po' Communicator, che nostalgia dei Communicator che ho quando chiudo questo Fold e attenzione perché a ottobre escono quelli nuovi Realme GT questo uscirà dalla cantinetta perché entra il GT2 Pro le patch sono arrivate a marzo Realme quanto aggiorna? diciamo che aggiorna mediamente bene lui costa adesso 350-400 euro vi ricordo che lo Snapdragon 888 display AMOLED secondo me a questo prezzo ha tanto senso ma un po' tutta la serie GT ha senso e arriva tra poco il GT3 Nio c'è qualche rumor che dovrebbe vedersi i versi primi di giugno poco, eccolo qua F3 Pro, anche lui esce perché è arrivato l'F4 patch di febbraio quindi non aggiornatissimo ecco Xiaomi è un pochino indietro per quanto riguarda gli aggiornamenti e ovviamente poco essendo un sub-brand di Xiaomi gli va a ruota però 240 euro il 128 con Snapdragon 870 ha tanto senso a questo prezzo più dell'F4 Pro che a me è piaciuto tanto e rispetto a tutti i telefoni 2022 Snapdragon 8 di generazione 1 costa 599 euro ha tanto senso l'F4 Pro ma in assoluto lui secondo me ha più senso perché avere l'ultimo Snapdragon sì un po' di potenza in più ma ormai di sta potenza ma che cavolo ce ne facciamo che già con i processori di tre anni fa si andava benissimo Xiaomi Mi 11 Ultra esce anche lui perché arriva al 12 Pro anche qua ancora le patch di febbraio nonostante lui sia un super top nella gamma di Xiaomi vi ricordo le supercamere il display anche qua dietro e ormai è difficile da trovare non ne ha venuti tanti pezzi ed è andato fuori in mercato entra il 12 Pro che costa a 950 euro un po' caruccio Moto Edge 20 Pro cosa è successo? patch di marzo nuova politica degli aggiornamenti da parte di Motorola da quando è stata acquisita da Lenovo hanno capito che gli aggiornamenti sono importanti hanno dichiarato tre anni di patch ogni due mesi e due major release di software lui adesso costa 479 euro vi ricordo che è lo Snapdragon 870 quindi anche lui ci sta soprattutto per quella efficienza e affidabilità dei Motorola e cosa entra al posto suo perché lui esce il ovviamente Edge 30 Pro che adesso costa 690 euro con Snapdragon 8 generazione 1 è vero che ha perso lo zoom perché qua aveva lo zoom periscopico il 20 ma ha guadagnato anche qua lo Snapdragon 8 di generazione 1 e mi piace 699 euro è tra i più equilibrati anche per l'affidabilità ma il più equilibrato di casa Motorola 2022 che ha senso che è sceso un po' di prezzo è il Moto Edge 30 liscio 380 euro su Amazon è un telefono che va veramente super super bene OnePlus OnePlus 9 Pro sono arrivate le patch di marzo e ormai l'interfaccia si è oppizzata si trova a 780 euro non so quanto senso abbia non ho il 10 Pro perché niente OnePlus l'ha ritirato da farlo girare per le varie recensioni forse arriverà ritornerà non lo so Pixel 6 sono arrivate le patch di marzo e poi sono arrivati 100.000 aggiornamenti di sicurezza sono 3 ore che continua ad arrivare l'aggiornamento e gli dico fai, aggiorna, fai, aggiorna insomma è qua che si sta ancora aggiornando però patch di marzo vi racconto l'esperienza di un amico che aveva il anzi un amico di un amico il Pixel 3A lo stesso telefono che a Gabriel si trova benissimo allora vi dico solo che Gabriele preadolescenza 11 anni disinstalla giochi installa giochi mio amico ha visto questo disinstalla, installa Family Link papami puoi fare perché ovviamente tutto super controllato e va ancora benissimo questo amico di un amico che aveva il 3A e aveva la batteria un po' morta dovevi cambiare la batteria perché è passato e si è detto Andrea avevi ragione non va proprio benissimo mi trovo quasi meglio con il mio 3A tra l'altro proprio adesso mentre sto girando questo video Google IO proprio IO sembra sardo potrebbe anche essere 1-0 visto che è codice binario vabbè chiudiamo la nerdata Pixel 7 in arrivo in autunno non si sa ancora se subito in Italia con il nuovo chip Tensor in versione Pro con 3 cam e lo zoom in versione normale senza zoom anche qua vedremo tra l'altro annunciati wearable insomma interessante seguite le news sul blog anche se arriveranno prima di questo video perché vabbè chi se ne frega Huawei P30 Pro eccolo qua vi ricordo che il P30 Pro è l'ultimo Huawei con i servizi Google per quello lo tengo in cantinetta anche se due anni fa a peggio di febbraio ma ragazzi ancora Android 10 tra l'altro se si va nelle informazioni sul telefono non c'è traccia di Android nel senso che non dice che versione è ma ovviamente nerdando si sa che Android 10 e 450 euro non ha tanto senso però per i nostalgici di Huawei che vogliono i servizi Google è l'unica alternativa P40 Pro che sta per uscire dalla cantinetta perché poi metterò il P50 Pro però lui ha le patch di aprile quindi bene gli aggiornamenti a 700 euro non ha secondo me tanto senso anche se il P50 Pro a 1000 euro anche lui non tantissimo senso ma Zenfone 8 allora patch di aprile bene gli aggiornamenti Android 12 ovviamente sicuramente meglio di ROG Phone e poi che bello che piccolino cioè è vero che Asus presenta magari un modello all'anno poi ci lamentiamo di quei produttori che presentano 100.000 modelli all'anno e poi quando un produttore presenta solo uno ci lo dimentichiamo però aggiorna ed è bello compatto da utilizzare brava Asus però lo prenderei solamente per la compattezza Oppo Find X3 Pro che esce perché arriva l'X5 sono arrivate le patch di marzo aggiornamenti medi in casa Oppo 750 euro euro che forse sono un po' ba ma attenzione perché entra l'X5 Pro 1249 euro il design è più o meno lo stesso le foto sono migliorate Nii sì però si fa anche un po' fatica a vederlo e viste le differenze non sostanziali forse l'X3 ha più senso però vi segnalo che l'X3 Neo uno dei miei telefoni preferiti andava benissimo il telefono dell'anno scorso medio di gamma 400 euro è una scelta molto intelligente l'Xperia One è messo così in castigo perché non si è aggiornato ormai è però un telefono di tre anni fa 2019 quindi ci sta che dopo tre anni ci sta non ci dovrebbe stare ma ci sta che dopo tre anni vengano un po' abbandonati lui è rimasto con le patch di ottobre quindi è abbandonato da un po' ma appena presentato il Mark III con zoom ottico variabile un telefono molto molto curioso speriamo di riuscire a vederlo presto e poi andiamo di sotto no mi stavo dimenticando di due cose una cioè l'X5 LED questo mo' porto come si suol dire mo' porto e alla fine vi racconterò una cosa e poi il Realme X50 Pro che è qua in cantinetta per capire come Realme va a mantenere anche i telefoni non giovanissimi lui è uscito due anni fa nonostante sia vecchiotto e si vede dal display ecco i display hanno avuto una bel boost di qualità in casa Realme comunque si aggiorna patch di aprile Android 12 e anche se economicamente non ha senso fuori mercato bene che si sia aggiornato andiamo al piano di sotto col Mi A3 che sancisce il fallimento della politica di Android One sugli Xiaomi perché lui ha ancora Android 11 è vero che le patch sono di aprile ma mi ha fatto anche un altro scherzettino quando l'ho acceso per riaggiornarle tutto è andato in bootloader a caso insomma un po' di problemi vari ovviamente fuori mercato quindi non vi sto a dire il prezzo mentre il Mi 11 Lite 5G secondo me adesso c'è la new version la new edition non mi ricordo più come si chiama comunque c'è la versione nuova faccio così così non vedete il mio codice di sblocco e a 250 barra 280 euro ha senso perché è leggero carino a me era un telefono che era piaciuto molto al netto di tutti i problemi con il sensore di prossimità che io non ho ma poi ho capito perché ci sono problemi con il sensore di prossimità allora lo sapete in Xiaomi hanno i sensori di prossimità virtuali non reali quindi con un algoritmo loro capiscono se sono verticali se sono orizzontali se sono appoggiati a un tavolo insomma dove sono e tolgono o mettono la schermata e il touch in base a questo e anche in base agli ultrasuoni e quindi chi lo usa in maniera strana oppure se lo usate a letto oppure se lo appoggiate su un tavolo e gli mettete sopra una mano non si attiva il sensore di prossimità si attiva solamente se siete normalmente utenti di una chiamata cioè così con il telefono all'orecchio magari anche se lo mettete tra la spalla e l'orecchio e lo tenete orizzontale può avere dei problemi ecco perché le discrepanze tra chi lo usa magari in maniera normale e chi lo usa magari in maniera un po' strana che si lamenta Redmi Note 10 eccolo qua sono arrivate le patch di febbraio un telefono che a me è sempre piaciuto veramente tanto e oggi a 170 euro ha un suo senso febbraio non aggiornatissimo ma ha più senso degli 11 soprattutto dell'11 standard che a me ragazzi non è piaciuto il Redmi Note 11 ho fatto un video proprio confrontando tutti i Redmi 11 andate a vederlo se vi interessa poco X3 NFC sono arrivate le patch di marzo quanto costa 270 euro rispetto alle ultime uscite ha poco senso perché ha lo stesso prezzo ma un display migliore con un processore peggiore ok però c'è l'X4 che secondo me è globalmente forse meglio forse no comunque sono lì con il prezzo Vivo X60 Pro patch di aprile quindi bene gli aggiornamenti di Vivo perché non mi sblocca il telefono con l'impronta forse perché non l'ho registrata vabbè fuori mercato anche lui non si trova più perché arriva presto il successore comunque il patch di aprile Vivo è proprio qua in cantinata per capire gli aggiornamenti e per ora è promossa vi segnalo anche il V23 cangiante che va bene anche se è un po' sovrapprezzato Realme 8 Pro sono arrivate le patch di febbraio come dicevo Realme sta un po' invadendo il mercato con i propri telefoni e lui costa 230 euro secondo me non ha senso perché è 4G e a 249 è uscito il Realme 9 4G attenzione perché è uscito anche il Realme 9 5G non fatevi abbindolare il 5G è peggio del 4G andate a vedere il confronto e costa comunque uguale ma il GT Master Edition sempre di Realme è un'altra scelta molto intelligente per rapporto prezzo prestazione perché costa uguale e sostanzialmente va meglio e poi il Huawei Nova 9 sono arrivate le patch di febbraio a 300 euro direi che non ha tantissimo senso OnePlus 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 Nord 2 sono arrivate le patch di aprile sì ma Android è ancora in versione 11 infotelefono guardate qua Android versione 11 costa 330 euro ma secondo me visto ormai la concorrenza visto l'appiattimento del mercato non ha tanto senso lo Z Flip soliti super aggiornamenti Samsung le patch sono aggiornate ad aprile ormai costa 889 euro questo telefono in versione 5G ma l'affare l'ha fatto chi l'ha comprato a 499 euro come il caro Pietro che in questo momento mi sta riprendendo e lui è un addicted di questo telefono perché lui ha avuto questo e ha rotto due schermi di questo soprattutto quando faceva freddo era un po' la criticità di questo primo Z Flip quello nuovo ce l'ha da gennaio e non ha avuto nessun tipo di problema al display segno che anche lì la tecnologia dei foldable sta migliorando e a ottobre vedremo quelli nuovi A52s 5G il Best Buy dei Best Buy di Samsung Samsung va un anno sì un anno no un anno sì gli anni pari va bene gli anni dispari un po' meno perché questo A52s 5G va meglio e adesso costa 270 euro vi ricordo impermeabile quando dico Best Buy vuol dire che comunque un po' di lagghettini ce l'ha un pochino di le foto sono buone da medio di gamma ma nel complesso per quello che costa è ancora un ottimo acquisto meglio di A53 Best Buy anche se ho sentito la mentella di chi ha installato Android 12 qua ovviamente c'è Android 12 io non l'ho provato approfonditamente ma magari approfondirò e nei commenti magari scrivetemi se avete un A52s 5G e se va bene e se va male quindi non solo se va male anche se va bene perché sennò poi i commenti sono tendenzialmente le persone che si trovano male con un telefono non di quelle che si trovano bene e vorrei invece avere una sorta di di statistica S20 F5G ho poco da dirvi perché vi ho detto prima è uno dei miei telefoni che consiglierei 399 euro in versione 5G con le patch di aprile va super bene e poi l'Honor 50 anche qua sono arrivate le patch di aprile quindi molto bene la nuova Honor anzi no ancora Android 11 quindi bene ma non benissimo però a 319 euro è un telefono che prenderei in considerazione anche perché abbiamo i servizi Google nessun problema ed è un telefono anche piacevole secondo me da tenere in mano e da vedere siamo quasi alla fine iPhone 7 ma che devo dirvi di iPhone 7 cioè sempre sulla cresta dell'onda è aggiornato all'ultima versione di iOS e poi il Pixel 4a gli ho messo la beta di Android 13 ne parleremo dopo il Google IO mi piace tantissimo chiamarlo IO però beta non betissimo nel senso che si aprono qua le notifiche poi avete visto è comparso e scomparso insomma vabbè è una beta quindi c'è poco da giudicare non è neanche giusto giudicare sappiate che graficamente e alla vista non ci sono tante novità le novità magari sono più sotto al cofano del codice Moto G 5G patch di marzo bene bene la nuova filosofia politica ma ovviamente fuori mercato quindi difficile da trovare forse non è anche più senso comprarlo Oppo Reno 4 Pro patch di aprile quindi bene e alla fine Oppo Reno 2Z patch di aprile ma là c'è ancora la ColorOS 11 con Android 12 non che cambi tantissimo però è un po' quella roba che dà un po' fastidio avere la versione dell'operativo del sistema operativo precedente in generale uno i telefoni dell'anno scorso sono quelli da comprare se volete fare non dico l'affare ma avere il miglior rapporto qualità prezzo 2 Samsung ed Apple medaglia d'oro sugli aggiornamenti gli altri tra il bronzo e l'argento Xiaomi un po' medaglia di legno forse era la maglia nera che davano una volta giù Italia vabbè chissà se la prossima cantinetta ci sarà basta ho letto questa cosa ma notizia scoop ci sarà e se ci sarà sarà ancora qua va chi vivrà vedrà ciao ciao